Nuovo video di Avungasse Intanto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un like Ma oggi sono anche con Fia Ciao Fia e Sofia Penso che si è capito dal rumore di Tocca Life World che Fia, Sofia, sta giocando a Tocca Impostore! Che ancora devo Che ancora devo Che è successo? Che ancora devo completare delle case Poi a fine video se c'è tempo Poi c'è finito No Non ho amministrazione Scorri adesso va bene, io lo faccio anche perché se no sono sus Cioè sono sus Ho sbagliato Ah ok ce l'ho fatta E viva posso giocare Io me ne vado Ma che si è teletrasportato Ma come questo è un impostore Chiudiamo tutte e tutte le porte Uncidere Condotto Bravo Sere Cavolo ma sono ovunque A posto Cadavere segnalato io non c'ero Io non c'ero ragazzi Che tu sei l'impostore Si dico vero in quel punto io non c'ero C'ero Vedi che ci sono due impostori Sì lo so che ci sono due impostori Io e un altro Ma infatti Chiudiamo ancora a te sta facendo caricamento Sì Ah va bene ok Io non sono sospetta Io non sono sassa per nessuno Meno male l'importante è questo perché io vorrei Vorrei vincere Sere ma perché A te Tocca Carica veloce A me piano Io ho molti giochi in meno rispetto a te Lo so infatti Ieri mi vuoi Vuoi installare 40 giocosti Condotto scappiamo Fuga Fuga No non è questo Ah va bene ok sei l'impostore Sere vedi che io la sto reddando come la ciavo No la devo ammazzare Allora io sono uscita dalla patola Ma io potrei essere ingegnere Cioè io sono l'ingegnere ragazzi Anche voi lo sapete Perché non capisce il sarcasmo Che vuoi fia? Io sto facendo il bagno Guardateli tutti Quello che ti piace di più Lo metti In qua Mi metto già il gabinetto d'ora Anzi no faccio il massimo Cavolo Non volevo evitare Votare Votare Quella Non volevo evitare Sarà ammazzare Io vado di sotto Quando ve non ci vanno Vado di qua Vado di qua Vado di qua Vado per il mio cammino Doccia Non so metto Mi capisco Vuoi te Ma dove lo faccio sto bagno? Non mi ricarica Non mi ricarica l'uccisione Cadavere Oh ma io non c'ero Ragazzi Ragazzi sto cercando di mettere stava stamattina Non mi ricarica l'uccisione Votate stamp wild No ve la faccio sto bagno Nooo Vabbè lo faccio sempre lì dentro ma faccio No dai Un'attoccia Un'attoccia Però voglio vedere se vinco Vinci Vinci Dai sabotiamo La luce Le porte Facciamo tutto E' bello giocare Da fantasma Anche se sono impostore E' bello lo stesso E' bello lo stesso perchè posso sabotare Saboto Tutto Tutto Per fare Dai forza Ammazzali Cavolo Mi sa che l'unica che ammazza ero io Lui un ogni mille mari Devo mettere la lavatrice Che ha da aver segnalato Ah dai avanti Dai Vinci No Vinci Ma dove è ancora sta doccia qua? Quella doccia E non c'è lo spazio La lavatrice la puoi mettere nel balcone E qua metti la doccia Ah Abbiamo vinto Se ora la lavatrice la metto qua e la doccia la metto qua Prova Ho vinto Però pure faccio al contrario C'è comunque veramente sono abbastanza stupida Io passo e poi ripasso Non ce l'ho pensato Ma non pensavo fosse così intelligente quello E siccome una mi ha chiesto Mi fai vedere la casa una Una su Toca E adesso andiamo su Toca e ve la faccio vedere Ragazzi E la casa è quella degli amici cucciolosi Amici cuccolosi Non lo so Ed è la casa di Di Marina La mamma non la piace Non mi ricordo mai chi è Quindi cambio Mi è arrivato qualcosa in questo E la volevo un po' sistemare Beh anche un resto sistema Poi volevo fare vedere qualche altra casa Qua c'è il bagno Una macchinetta Beh io metto E qua un bel giardino Beh io metto pure la mano Ragazzi veramente il gatto è quello della spazzatura Io quando l'ho visto ho detto Ma Ma Non è vero che il gatto non scompare? Che bello il gatto non scompare E potete chiuderla nell'armadio Se volete un cassetto E dire addio al vostro gatto Certo soltanto per farle vedere cosa possono Nella lavatrice pure E' così che non ve lo dovete lavare qua Cioè Fate prima facendo così Ragazzi non lo fate Non lo fate Perché muore il gatto Ecco Non lo metterò nel perico Ciao No Il forno No nel forno non ci entra E' a prova di assassino Però nel microonde si Non si può chiudere perché gli tagli la testa se no Infatti Ero io che non so chiuderlo Ma fuori? No dai E vi faccio vedere un'altra casa La casa che vi ho fatto vedere prima era Quella 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 qui in basso Allora vi faccio questa 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 era la casa che vi ho fatta vedere E adesso andremo in questa casa Quella In questa casa Perché sono due E io infatti sono nella stessa casa Sì Avevo in mente di non farvela vedere perché Pia se no copia Aspetta Allora Perché c'è una macchinetta qui? Allora poi c'era un vestito da mettere qui che era questo qui Questa è di Roberta Ma che è Roberta? Una Ok Ve la faccio vedere quella dove metterò la scorsa Tra qualche giorno nascerà Sabrina Ovvero la quinta E infatti Sabrina E lei Roberta Oh E lei E poi qua ci Ci vivono persone E infatti ci vivono forse E queste sono le casse Perché io volevo prendere un po' di spunti Sapete che queste sono delle cucce Io ci provavo a mettere Che ne so tipo questo Non ci entravano Poi ho provato a metterci l'animale E si è messo a dormire E mi è venuta l'illuminazione Potete fare così ragazzi Le potete abbandonare qui a dormire per tutta la vita E poi quando Lo buttimo nella casa sarà sempre lì dentro Un po' non c'è niente Poi questa è la loro camera Ovviamente Ovviamente A me mi si spegne il tablet Lo riprovo ad accendere E mi si blocca La loro camera Poi la mamma loro La dottoressa Che però è dal lavoro E questo è il papà Poi qua c'è il papà La mamma Ovviamente sono due Tre case state Certo Fia Io che pensavo fossero tre Troppo contenta Tre case in una E poi c'è l'altra figlia Dov'è l'altra figlia? Ovviamente In questa casa Che è lei? Che Questa è la loro camera Naturalmente Ovviamente già devono Nascere le Forse Il gatto E poi questa è la camera Il gatto dov'è? Il gatto dov'è? Che ve lo faccio vedere Ho perso il gatto ragazzi Dirmi che l'ho messo in qualche cassetto Con la ricerca degli animali Nei cassetti Però l'avevo buttato per sbaglio L'avevo buttato per sbaglio Non lo sono ricordato adesso Dove è stato detto adesso? Ti ho detto che l'ho buttato per sbaglio Oppure in bagno No Ma non è Qui non è Nel frigo non è Che l'ha matto Cercate in tutta la casa Non potrebbero vedere Usciamolo Prima che mi rimane un altro gatto Buttatino del gatto Perché è capitato Qua c'è la cucina Beh anche a me mi è capitato Quattro ambienti tutte nuove Sera ma tu E poi forse E un balcone Che cosa vuoi? Ma tu ha belle bimbe piccole Usi la sedana normale O il seggiolone Il seggiolone Dipende da che età Vabbè ragazzi Il video finisce qui E ci vediamo al prossimo video